Fermi tutti! Cosa sta succedendo in questo quadro? C'è un soldato che sta per prendere a sberle il Papa! No, non si tratta di un fotomontaggio, questo episodio avvenne davvero. Facciamo però un passo indietro. Il Papa in questione è Bonifacio VIII, al secolo Benedetto Caetani. Questo pontefice aveva una forte personalità e aveva di recente emanato la bolla Unam Sanctam. Con questa bolla il Papa ribadiva la sua superiorità rispetto a tutti i sovrani d'Europa. Re e imperatori gli dovevano assoluta obbedienza e il pontefice era al di sopra di tutti questi uomini. Con questa bolla entrò in conflitto con Filippo IV il Bello, re di Francia. I due non andavano molto d'accordo perché Filippo il Bello voleva imporre il suo controllo sul clero francese e imporre anche delle pesantitasse su quest'ultimo. Visto che nell'aria c'era questo profumo di scomunica, Filippo IV decise di inviare in Italia dal Papa il suo cancelliere, Guglielmo di Nogaret. L'obiettivo era quello di ribadire l'autorità del monarca su quella del pontefice ed evitare la scomunica. Così Guglielmo di Nogaret nel 1303 scese in Italia ed assediò il Papa nel suo palazzo ad Anagni. In questa operazione fu volentieri aiutato da Giacomo Colonna che è il soldato nella foto. La famiglia Caetani e la famiglia Colonna erano infatti in conflitto da molto tempo e questa fu l'occasione per i Colonna di vendicarsi sul Papa. Per via di questo episodio Giacomo Colonna verrà soprannominato Sciarra che letteralmente significa litigio come a ribadire la sua indole litigiosa e belligerante. Lo schiaffo fu sicuramente un sopruso fisico ma le ripercussioni più forti l'ebbe sicuramente a livello psicologico e morale. Il pontefice infatti morì di lì a poco e dal 1309 con Clemente V fino al 1377 la sede pontificia verrà spostata in Francia ad Avignone. Questo periodo si chiamerà cattività avignonese. Questo gesto non piacque nemmeno ai rivali politici di Bonifacio VIII come Dante Alighieri. Benché Dante fosse un detrattore del pontefice, nel canto ventesimo del Purgatorio e della Commedia considerò questa offesa come fatta a Gesù Cristo in persona. Perché men pai al malfuturo e il fatto Veggio in alagna intrarlo fiordaliso E nel vicario suo Cristo esser catto Veggiolo un'altra volta esser deriso Veggio rinnobellar l'aceto e il fiele E tra vivi ladroni esser anciso È un'altra volta esser Non per tocco und è una volta usan gladi料 Zamora いう